Aveva seminato il terrore fra Riese e Unai di Fonte, rubato tre auto, sfrecciato a folle velocità lungo la strada. Aveva travolto ed ucciso un ciclista, Mario Piva, 67 anni, che stava andando a trovare la figlia in bicicletta. Poi aveva speronato l'auto dei carabinieri che stavano cercando di bloccarlo. Steve Quintino, 20 anni, condannato in primo grado a 12 anni per omicidio stradale, rapina e dubbliche tentato omicidio, ora verrà sottoposto ad una nuova perizia psichiatrica. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Venezia, accogliendo sostanzialmente i motivi del ricorso presentato dal legale del giovane e l'avvocato Paola Miotti. Per la difesa, il ragazzo era incapace di intendere volere al momento del fatto. Il giudice, nella scorsa udienza, non aveva accordato a Quintino la semi-infermità mentale. L'incarico verrà conferito il prossimo 23 aprile ad un medico del REMS di Nogara, struttura in provincia di Verona. Perizia che dovrà stabilire se il giovane fosse capace di intendere volere quel tragico giorno del 1 ottobre 2022 e anche se sia capace di stare a processo. Quintino ha un padre gravemente schizofrenico, sindrome mentale che di fatto può trasmettersi per via ereditaria. Per il perito della difesa, il ventenne avrebbe un quoziente intellettivo di un bambino di 8 anni. L'avvocato Miotti, nel ricorso, non solo ha argomentato che la schizofrenia è ereditaria, ma ha anche sottolineato che combinata con l'assunzione di marijuana, il giovane aveva assunto stupefacente, può creare una psicosi da delirio allucinante.